Sei un difensore, no? Però entri, 5 minuti, da attaccante puro, fai il gol del 3-1, strano ma vero. Sì, sì, è stato un rimpallo lì che l'aveva caduto Luca con la testa e mi è rimasto lì e ho calciato a mezzo giro lì col sinistro e è andato dentro. Visto anche che in difesa arrivavi sempre prima degli avversari, il primo tempo Bocic e Di Massimo avevano spaventato tanto, soprattutto Milos, ma al secondo tempo ha cambiato un po' la musica. Sì, sì, Vosi lo conosciamo già, è un grandissimo giocatore, è anche un amico mio, lo voglio bene. Ma che si sono detti lui e Drudi, ve l'ha detto Mirko, in quel faccia a faccia nel primo tempo? Sicuramente è stato qualcosa lì del campo, qualcosa che è rimasto lì e può succedere, quando ci sono gli animi così caldi può succedere una roba del genere. Avete scavalcato, lo dicevamo anche con il tecnico Zauri e la Virtus Sentella, c'è il quarto posto che è già, insomma, un piccolo passo avanti, ora non dipende da voi. Sì, è un piccolo passo avanti e ci giochiamo tutto all'ultima, aspettando che possiamo raggiungere l'oggettivo che ci avevamo messo a gennaio. Ma cosa avevi fatto in questi giorni? Perché a Lucca sei rimasto fuori un po' a sorpresa, poi anche domenica scorsa che cosa è successo? Niente, praticamente nella rifinitura prima di Lucca ho sentito un fastidio il flessore, c'è stato un piccolo allungamento, quindi sono rimasto fuori lì, anzi, timeno ho fatto l'ecografia, c'era un po' di edema, quindi sono stato fermo fino a lunedì e sono rientrato lì, ho fatto tre giorni con la squadra. Ti chiedo un'ultima cosa, rispondimi sincero Julian, nel primo tempo la Pistoiese ha messo in oggettiva difficoltà il Pescara sul piano del ritmo, sembrava un po' quel Pescara che in stagione faceva fatica contro determinate squadre. Nel secondo è cambiato tutto, c'è anche un po' di merito di Gianess con le sue caratteristiche di andare a prendere alto l'avversario in difesa? No, no, io penso che le partite ci sono dei momenti, forse il primo tempo loro giocavano bene, hanno rischiato pure per giocare, poi il secondo tempo ci siamo messi bene in campo e non abbiamo sofferto più, ci sta, le partite ci sono dei momenti, siamo stati bravi anche a chiuderla.